Tata! Ma se non vuoi che ti fai? Non l'ha messo giravido, se no Rocco... Come ti dici, ti fai sfuso, così non lo faccio più Comunque mi hai fatto la medicazione che non è tanto buona Ti hai fatto la medicazione che non è tanto buona? No, mi hai fatto! No, l'hai fatta tu! Aspetta, lei avvicina... Maronna, mi ce la faccio! Mi serve a giravido, a chi è questo nastro? Stiamo a fiera filata sta... Ma Rocco, c'è un pezzo di nastro se vuoi? Stiamo a prendere! No, 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 va bene, non ti preoccupare Sta qua! No, non va bene Va bene, non ti preoccupare Non ti preoccupare, non ti preoccupare Siete lì scorti Ti piace, Rocco? Non te l'aspettavi, eh? Si è fatto troppo ruppi, non ti senti di più Non ti preoccupare Sì, come mai? Ma tu ci vuoi mettere su la carta, non su questa plastica? Ah, non chissà? No, no, ho cambiato i rapporti Forse lui Questa è la seconda, non si può camminare la seconda Troppo lunga, eh? Troppo lunga, eh? Questa è il freddo, ce la faccio assaggiare un po' che risalita La prima No, è la ricetta che era lunga, ti resiste, no? Io ci trovo Tu resiste con un po' più su, non si sentivo quasi che era lunga Eh, vabbè, perché è più veloce Ti ricordi? Ti ricordi? Troppo a Whatsapp, ti ricette, no, è lunga Questa è la trazione dietro È normale E l'anteriore Tende un po' a chiudersi troppo Non so se è giusto o sbagliato Rocco, portandolo un pochettino indietro hai perso un po' di avancorsa Potresti provare a sfilare un pochettino magari la forcella nata poco Devo provare, potrò provare Un paio di millimetri, un millimetro, due millimetri Perché poi quello che sarà che hai recuperato dietro Non pensi che è tantissimo Ma dipende da quando hai spostato la rete I mezzi centimetri, un centimetri, tieni l'idea? Un buon centimetro Un buon centimetro, è parecchio allora Facciamo il cambetto, vuoi farlo ora? Allora, andiamo cambetto Un buon centimetro 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.